Questa è la Zero Gravity, una delle migliori palestre di trampolini in Italia, dove puoi fare ginnastica e parkour. Questa sede si trova a Bergamo, nel centro commerciale delle Due Torri, ma direi che possiamo cominciare a saltare. Dopo riscaldamento volevamo cominciare a saltare, ma c'erano questi ragazzini che erano super entusiasti del fatto che facessi il video. Ci sono i bambini qua. Ciao! A salutare. Ciao! 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 Allora mi sono messo a mostrargli i flip che sapevo fare. Ci abbiamo attivato ovviamente tutto il pubblico. Dite ciao ragazzi! Abbiamo iniziato a saltare in questo trampolino lunghissimo, dove potevamo provare anche diverse combo. Chierate in fondo a parete, pronte, rondata, flip. Eeeh, guardate qua il pubblico! Vai, lo provo anch'io! La cosa che non mi piace di questa striscia qui è il fatto che è molto morbida, molle. Di conseguenza non riesce a spingere i salti. Vai! Insegneremo a fare qualche ragazzo qua il backflip, più che insegneremo glielo facciamo fare proprio. 3, 2, 1, salta! Nella parte centrale volevo provare un flip pre, ovvero fare un flip e atterrare sulla parte gialla. La prima cosa che provo è side pre, quindi capirò di lato e arrivo qua in piedi. Ma porco Giuda! Oh, non riesco! Dopo che mi è venuto il side ho provato anche il frontflip, il backflip e il gainer, che sarebbe un backflip andando in avanti. Ci siamo spostati poi nella zona della buca, dove puoi provare tutti i flip in completa sicurezza perché c'è un airbag gigante. Non l'ho spinto abbastanza, devo regolarmi con la spinta di questo trampolino. È venuto perfetto perché ho regolato la spinta, sono andato bene su in alto. Se non riesco ad arrivare in piedi, mi mangio uno di loro. Gacchio! Mi mangio il bambino! Alla zipline volevamo provare questa challenge, ovvero andare e tornare senza mai fermarsi oppure cadere. E vi assicuro che è molto più difficile di quanto sempre. Spingi, spingi, spingi! No! Vai, 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 vai. Non ho sbagliato! Niente? Dai che ce la facciamo! Diamo, abbiamo, 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 abbiamo! Dai! Cacchio! No! Brè! Spingi, 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 spingi. Vai, 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 vai. Vai, vai! Sì! Ce l'ha fatta! Sì! Sì! io. Questo è un video per YouTube. Cioè noi siamo su YouTube. Se volete sì. Cioè io ho fatto un video, cioè io ho fatto una roba di risalto. Va benissimo. E Ninja Warrior è stato veramente tosto, ma siamo riusciti a completarlo quasi tutto. Mi ha proposto di fare tutta questa scaletta solo in piedi, senza mettere le mani, soprattutto senza cadere. Ma il punto è che è difficilissimo. Intanto vediamo se lui ce la fa. E vabbè, ma che sei? Ma che sei? Uh, che male i piedi. Ma che male i piedi. Sai che io non riuscirò a farlo. Oh s*****. No, no, i piedi non c'è. Oddio. I piedi non ci riuscite. Dai, dai. Sono morto al primo, promette bene. Marco, ma che fai? È andato giù tantissimo. Ma che cazzo? Ma fa schifo. Ah, è la roba più schifosa di questo mondo. Questo è impegnativo, eh. Tosto questo. Lascia il campione e riesce a farlo. Ho le mani tipo rotte, completamente rotte. Qualcosa mi dice che volete fare una foto. Me lo dice la telecamera aperta della tua amica. Ragazzi, buon divertimento. Alla prossima. Managgia. Guarda, guarda, guarda. Cazzo. È stato lui. Lui. Ho tirato il piede sulla roba. Adesso la cosa che voglio provare è fare. Backflip da qua, quindi un back. Appena atterro faccio double full. Troppo indietro, troppo basso per la spinta del doppio. Quindi devo andare più lento e andare più in alto. Faccio vedere il miglior modo per arrivare là in fondo. Volevo provare a fare un backflip dentro l'airbag, solo che era veramente difficile, perché non avendo nessuna spinta, devo cercare di saltare tantissimo. La parte centrale è piena di trampolini e solitamente anche sempre piena di gente. Quindi, dato che non c'era nessuno, ne ho approfittato per fare diverse combo, e usare tutto lo spazio possibile. A un certo punto, questi ragazzini mi hanno sfidato a questo gioco, ovvero se hanno due bastoni e uno deve cercare di buttare giù l'altro. Mi avranno sfidato 25 bambini e nessuno è riuscito a buttarmi giù. Cazzo, mi metto! Cosa fai? Mi pidi a pugni. A pugni! Non ho chiuso completamente nel double full, infatti sono arrivato tipo così. Giampiero Franchino. Giampiero Franchino. Mondo, eh? Mi dice il vero nome di sempre. Ma non mi sembra già! Ripai Gainer, appena fatto un fail pazzesco. Così lo rifaccio rifare, in salto mi fa un altro fail. Oggi è la giornata dei fail. Parto da qua, front 5.40, arrivo l'indietro e quando arrivo double full. Devo andare un pochino più in alto per poter fare il double. Lo faccio con il double adesso. Ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!